Di nuovo buongiorno a tutti, allora cominciamo subito con le pagine interne dei vari quotidiani e con un triste primato che è tutto italiano, quello sulla corruzione e il rapporto dell'Unione Europea su questo argomento. Il titolo delle Corrie della Sera che vi mostra è questo, conflitti di interesse e processi lenti a fondo dell'Unione Europea. La corruzione in Italia vale 60 miliardi, la commissaria Malmström che dice cifre per difetto, un ostacolo per 4 aziende su 10, padroni griffi che dice riconosciuti i passi in avanti. Nessuno Stato è esente dal fenomeno, sottolinea l'analisi presentata ieri a Bruxelles. Sono stati fatti progressi legislativi ma grandi opere come l'Expo di Milano restano a rischio, avverte Cecilia Malmström da Bruxelles. Non che ci volesse l'Unione Europea a dirci che l'Italia è un paese corrotto, basterebbe in linea di massima sfogliare i giornali tutti i giorni. Ma dall'Unione Europea arriva un altro monito all'Italia e lo troviamo ancora sul Corriere della Sera, a pagina 5 in questo caso. E riguarda che cosa? Un argomento, un problema molto sentito, quello dei pagamenti in ritardo. Si muove infatti, l'Europa avverte il Corriere della Sera. Procedura di infrazione contro l'Italia per i rimborsi. Dimostrate che siete in regola con i tempi. E Tagliani che dice abbiamo aspettato 13 mesi ma la situazione è peggiorata. In nessun altro paese i rapporti degli advisor sono stati così negativi. E questo è un altro record. Tagliani che è il vice presidente della Commissione dell'Unione Europea che appunto ha rilasciato questa dichiarazione. Dal Corriere della Sera passiamo a Repubblica perché qui torniamo ad occuparci di politica italiana. Lo facciamo con le polemiche sempre più furibonde tra i grillini e da una parte la presidente della Camera Boldrini, dall'altra un partito che è appunto il Partito Democratico. Questo è il titolo di Repubblica. Nuovi insulti dei 5 Stelle alla Boldrini e ritorsione contro Daria Bignardi. Letta è una barbarie intollerabile. Giallo su un tweet falso della presidente della Camera. Alla conduttrice delle invasioni contestata la parentela con Sofri. Grillo sconfessa che ha bruciato il libro di Augias. Insomma, gli insulti che corrono rapidamente un po' su tutti i social network da Facebook a Twitter. Tra l'altro parla un rappresentante sempre qui su Repubblica del Movimento 5 Stelle che è Rocco Casalino che è autore del post sulla conduttrice. Un post veramente molto duro. Colabignardi dice ci eravamo conosciuti dal grande fratello però prima di tutto faccio l'attivista. Sono stato violento ma se c'è da lottare io lotto. ha preso di mira la conduttrice peraltro della nostra televisione, la Bignardi, in riferimento alla parentela con Adriano Sofri. Ancora su questo argomento e ancora su Repubblica. È resa dei conti tra i senatori, scrive ancora il quotidiano romano, spunta l'ombra della scissione, la svolta sulla legge elettorale e in quattro tentano di sfiduciare il portavoce. Insomma, non tutti sarebbero d'accordo con questa linea. Il deputato catalano a Casaleggio dice riprenditi i tuoi consulenti. Ancora c'è un'altra deputata che viene allo scoperto, sempre su Repubblica con un'intervista, la deputata Rostellato che si sfoga, vergogna, non voto più Movimento 5 Stelle ma non lascia il Movimento. Sono loro che devono andarsene, scrive in questa intervista, afferma in questa intervista la deputata Rostellato. Non possiamo mandare in Europa gente come questa. Non mi riconosco in quello che siamo diventati, si riferisce ai toni usati in questi ultimi giorni. I toni, ma non solo toni, c'è anche della sostanza. E a proposito di polemiche, in Italia si polimizza un po' su tutto, si polimizza anche sulla scelta di Enrico Letta di andare all'apertura dei giochi olimpici invernali in Russia, soci che aprono sabato. Letta accetta l'invito di Putin, scrive Repubblica vado alla cerimonia olimpica rivolta nel Partito Democratico per i diritti gay. E le Premier che risponde promuovo Roma 2024 ma il Renziano del Rio lo applaude. Un gruppo di democratici che prendono posizione, è un errore. Gli altri leader europei boicottano e infatti vediamo sempre su Repubblica chi non parteciperà alla cerimonia. Sicuramente Barack Obama, e questo era stato già detto la settimana scorsa, tra gli europei non andranno neppure Hollande e la tedesca Angela Merkel, oltre a Cameron il britannico. Andranno invece il Premier olandese Mark Rutte e il Premier giapponese Abe. Ma cosa c'è dietro questa decisione di Enrico Letta? Ce lo spiega, per lo meno l'interpretazione di Repubblica è questa, pagina 11, gas, petrolio e una ragnatela di affari. Ecco perché l'Italia dice sì alla Russia e nell'apertura ai giochi il nostro Paese resta solo. Gli oligarchi stanno investendo molto in Italia, l'ENI ha interessi strategici, è anche una delle poche economie emergenti nella quale abbiamo un ruolo riconosciuto. Lasciamo le polemiche olimpiche, le polemiche che riguardano Ricoletta e trasferiamoci nel centrodestra dove è stato riaccolto Pierferdinando Casini da Silvio Berlusconi. Andiamo sul messaggero e troviamo questo articolo. Berlusconi a Casini, bentornato a casa, ma c'è l'altolà della Lega. Il Cavaliere detta la linea, lieto del suo ritorno, basta con gli attacchi. Maroni però dice no alle ammucchiate o sottoscrive un progetto o stia lontano. Il leader centrista che dice proposta politica con un programma innovativo e serio, mentre Alfano insiste e chiede le primarie. Questo è quel che bolle nella pentola del centrodestra. L'economia, vi dicevo, è importante soprattutto la questione, la vicenda all'Italia. Ci sono state ieri alcune novità importanti che sono riportate dai giornali. Banche in aiuto di Alitalia scrive Repubblica, ora via a Etihad e oggi potrebbe sbloccarsi anche la trattativa con i sindacati su cassa e solidarietà. Finanziamento per 165 milioni, ma c'è una presa di posizione importante, quella di Lufthansa, che protesta sul prossimo accordo con gli emiri e dice sono aiuti di Stato mascherati sostanzialmente. Ma cosa avverrebbe una volta incassato l'accordo con Etihad? Questo è quel che interessa la clientela, cioè il pubblico. E allora, l'analisi è sempre tratta da Repubblica. Biglietti meno cari e AB a Fiumicino. Ecco la rivoluzione targata a Abu Dhabi. Nuove rotte e la richiesta al governo di arginare le low cost. Tasse aeroportuali basse, costi del lavoro inferiori del 33%, risparmi del 16% sul carburante. Ma Roma scelta per trasferire il traffico dell'Oriente su una ragnatela di voli verso l'America. Dunque, più voli diretti da Roma agli Stati Uniti e alle grandi capitali sudamericane. Questa è la sostanza del piano che ha in mente Etihad per Alitalia. Andiamo ora su un altro giornale che è la stampa per occuparci della vicenda. Una storia infinita, davvero, quella dei Marò. Slitta l'udienza, l'avevamo detto già ieri, India pronta a rinunciare alla legge antiterrorismo. Questa è la novità importante. La Corte lunedì, i capi di accusa. Eletta che sbotta e dice basta, attendiamo da due anni. Questa per quanto riguarda la vicenda dei Marò. Vi dicevo, compleanno di Facebook, dieci anni di social network. Alcuni giornali hanno scritto Facebook ha vinto, inutile stare qui a parlare d'altro. Vediamo quest'articolo sulla stampa, la piazza del paese virtuale che fa incontrare il pianeta. La rete social nata a febbraio 2004 ha un miliardo e 250 milioni di utenti. E qui c'è anche un riferimento al fondatore che è Mark Zuckerberg, come sapete uno degli uomini più ricchi del mondo grazie a questa piccola invenzione. Andiamo ancora avanti, abbiamo ancora qualche secondo per parlare del Far West, vero e proprio Far West, ieri in Lombardia. Lo troviamo e ne parla il giornale di Milano. Regassolano liberato dai banditi. Nell'assalto muore suo fratello. Scena da Far West, commando contro blindato nel Varesotto. Sparatori in strada, colpi di Kalashnikov, con la polizia, le vase, Domenico Cutri, un affiliato alla Ndrangheta, scrive il giornale. Ovviamente di cronaca si parla anche gli altri quotidiani. Vediamo anche questo fatto, altro fatto di cronaca che ha molto colpito, sempre dal giornale, rifiuta le avanze e la uccidono. 12 ore con il corpo in valigio, la studentessa di Brera. Il sesso sullo sfondo del delitto. Fermati i coinquilini indiani avrebbero soffocato e poi messo l'iraniana in un trolley, bagando dall'Ecco a Venezia in cerca di un posto per disfarsene. Era anche l'ultima segnalazione, 7.21, ora la linea passa a Paolo Sottocorona per le previsioni meteo. Buongiorno Paolo. Grazie, buongiorno. Non abbiamo nuvole particolarmente compatte e intense sull'Italia, ma ce ne sono tante. Infatti se guardiamo queste immagini troviamo, guardate, soprattutto questa linea di nuvole che parte dal Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana, Coste del Lazio, si individua, insomma si stacca un po'. Sarebbe quella prima perturbazione che abbiamo visto ieri avvicinarsi e che si vedeva non essere particolarmente intensa, però vedete sull'Italia o vicino all'Italia, a ovest di Corsica e Sardegna di nuvole ce ne sono molte, è una nuvolosità irregolare, questo significa che ogni tanto non piove essenzialmente e anche che al momento le piogge non sono abbondante, quindi con tutto quello che è successo nei giorni scorsi non è che aiuti se piove anche poco perché crea disagio per i lavori, però l'apporto di pioggia in questa situazione non è sicuramente critico. Vediamo a questo punto velocemente, 12 ore per 12 ore, cosa succede nei prossimi giorni. giornata di oggi vedete le piogge più consistenti sulle regioni di nord, nord-est, non solo alpine in realtà e ancora qualche pioggia consistente al sud, il colore azzurro col verde sono piogge di debole intensità e quantità. Vediamo la fine della giornata di oggi, vedete si attenua un po', si alleggerisce, il maltempo sulle regioni di nord-est si riduce come estensione si sposta, tende ad andarsene verso est. Vediamo la giornata di domani che è abbastanza significativa, una prima fase in cui c'è veramente un intervallo, di piogge ce ne sono poche, specie sul versante adriatico, ma guardate il nuovo maltempo, questa è una perturbazione sicuramente più intensa, più consistente di quella entrata o che sta entrando oggi, perché poi nella seconda parte della giornata di mercoledì vediamo l'avanzamento di questo maltempo a prendere tutte le regioni di nord-ovest, poi il nord-est e poi almeno il centro, il sud ne rimane un poco fuori. Tenete conto che nella giornata di giovedì questo maltempo si sposta abbastanza rapidamente verso est, quindi c'è una fase di intervallo, seconda parte di giovedì, prima parte di venerdì, poi un pochino e si ricomincia. L'inverno è anche questo, ma come temperature siamo ancora di nuovo al di sopra della media, quindi freddo sicuramente per il momento non ne fa. Se volete noi ci possiamo vedere alle 7.50 con il prossimo appuntamento con il meteo, fra poco la prima edizione del nostro telegiornale con Paola Mascioli.